Perfetto ragazzacci e ragazzacci, allora si può continuare su Xenoblade Clonicles 2 Vediamo un attimino la direzione, la nostra strada dove bisogna andare A questo punto, sì, ecco, è qui Non possiamo sbagliare A tra poco ragazzi, lasciamo parlare i protagonisti, ciao! Allora, la nostra strada di Kiku è stata la sua scena Allora, l'onore consapev器 sul pritore Allora, la nostra strada di Kiku è stata la sua scena Andata, che non si sa Non c'era l'automobile. Quindi tutti, che non c'era l'automobile, non c'era l'automobile. Ma... Sì, non è vero, non è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' una sorta di boss fight, io devo ricordare i comandi perché sono alcuni giorni che non gioco, quindi spero di ricordare tutto al meglio. E vediamo un po' come va. Troppo, troppo bello questo gioco ragazzi. E' fantastico, è un gioco veramente bellissimo, bellissimo, bellissimo ragazzi. Vai, vediamo un po' qui. Facciamo una sorta di super, sì, una sorta di super possiamo dire che era. Speriamo che la battaglia va bene a buon fine perché io sinceramente ho sempre un po' paura qui perché non si può mai sapere su questi titoli. E' per questo che io livello sempre un po' di più, perché non sappiamo cosa ci può aspettare nell'andare avanti nel gioco, ecco. Vai così, però io vorrei eliminare anche questi brutti balordi qui però... Vabbè, attacchiamo qui va. Attacchiamo la quercia più pesante. Voi commentate e ditemi se questo titolo vi sta piacendo. E' impossibile che non vi piaccia perché è un giocone. E' un giocone ragazzi. Anzi, vi dirò di più, per metà febbraio aggiungeranno una modalità New Game Plus. Quindi una volta finito il gioco e poi me lo rigiocherò per gustarmelo meglio, ecco. Ecco va, attacchiamo questo così togliamo i soldati imperiali qui e li togliamo. Chiamiamoli così va, soldati imperiali. Vediamo questa boss fight se andrà a buon fine. Per il momento sembrerebbe di sì che vada a buon fine dalla mia parte, quindi speriamo sia così. Speriamo sia realmente così ragazzi. Che la sorpresa non sia dietro l'angolo. O la brutta sorpresa. Allora, vediamo un attimino, no? Perché il gioco è veramente... Ragazzi, a me questa Nintendo Switch... Mi sta prendendo veramente tanto, ma tanto, tanto, ecco. E' una console valida, spettacolare, lo posso veramente dire... Senza ombra di dubbio. E' una console veramente fantastica. Ok, vediamo un po', vediamo un po' qui. Io mi impegno, ma questo qui ha una resistenza. Questo boss qui... Devi cedere, Ciccio. Non è che puoi... Anche perché tra poco ti farò... Aspettate, come si faceva? Come si faceva con l'attacco lì? Aspettate, com'era? Com'era? No, non era questo. Eccolo qui, voleva per fare l'attacco. Così ora ci divertiamo. Ci divertiamo ora. E sì, eh. Anche se avrei potuto farlo un po' prima, magari. Ecco, adesso l'ho usata senza motivazione. Vabbè. Non fa nulla. Non fa nulla, ragazzi. Ok, perché non colpisci? Ah, ecco, non stavo sbagliando io, ragazzi. Sbagliavo io, sbagliavo io. Tranquilli, stavo sbagliando io. Ok, distrutto. Possiamo proseguire con la storia. Perfetto. Sbagliare con la storia. Sbagliare con la storia. Sbagliare con la storia. Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie. Grazie. Grazie per aver guardato il video. 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 Basta così? Grazie per aver guardato il video. Ok, missione principale alla ricerca di Lila. E' certo, la missione principale va attivata. Giustamente va attivata. Allora... livello 37. Io avanzo di livello, ragazzi. Non è che mi... Non è che mi fermo, mi blocco lì, eh. Se mi dice puoi avanzare di livello. Se mi dice puoi avanzare di livello, avanziamo di livello. Dov'è il problema? Non c'è problema, ragazzi. Sì. Portiamo a livello 37 anche lei. Ok, andiamo qui. Anzi, vediamo se ho ben capito. Forse avevo capito, sì. Forse potevo andare direttamente al livello 37. Vabbè. Abbandoniamo il potenziamento. Ripossiamoci. E poi vediamo il da farsi. Sì, 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 sì. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok, sono tutti pronti? Allora, ora c'è un problemino che io non ricordo qui. Come si visualizza la mappa. Vabbè. Allora, vediamo un attimino qui, eh. Ecco qui il livello inferiore. Allora, forse... Ma noi siamo qui? No, un attimo. Mi sto sbagliando. È di grosso pure. Andiamo a questa destinazione, così almeno saremo vicini. Ecco, come ho ben detto, insomma. 25. No, e di qua, e di qua, e di qua. Eccomi qui. Allora, guardiamo un attimino qui intorno cosa c'è. Non c'è nulla, quindi... Parliamo, vediamo cosa ci dice un po'. di qua, e di qua. E anche, vai... Sucio? Mavi Members... Di qua. E fråga. En ebenso di qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, vediamo un attimino. Credo che qui dobbiamo arrivare da soli a destinazione, però, insomma, dice che bisogna salire, che è in alto, però dove? Ecco, qui la distanza sembrerebbe che comunque è un obiettivo attuale, vediamo che dice. Magari più tardi combattiamo un po', eh? Magari più tardi combattiamo un po' per salire, per fare qualche punto, per salire di livello e così via. Vai, cosa mi dà? Eh, ok, ok, raccogliamo tutto, raccogliamo tutto, non lasciamo nulla al caso, ecco. Ok, la strada sembrerebbe qui, no, è qui. E infatti non ne vediamo di balili gialli, purtroppo. Ok. 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 Ok, allora che stiamo aspettando? Non stiamo aspettando nulla e nessuno. Vediamo un attimino. Allora, io vi dico la verità, ragazzi, perché vi dico la verità. Vediamo un attimino una cosetta, ecco. Visto che la direzione nostra è di andare qui, no? Io, se posso salvare la partita, resterei qui in modo che il livello, magari il livello un po', livello un po', perché bisogna comunque livellare qui, ragazzi. Allora, vediamo un attimino. Allora, vediamo un attimino. Ok, salviamo la partita. So che magari il gameplay è durato un po' poco, voi poi vi lamentate, questo è vero. Però, io non per cattiveria il gameplay lo voglio chiudere qui, appunto, perché almeno avrò l'opportunità di magari aumentare di un livello, almeno di un livello vorrei aumentare prima di proseguire. Va bene, ragazzi? Allora, io spero che siete rimasti contenti di questo gameplay. Il vostro Diablotex, per il momento vi saluta, ma tranquilli perché andremo avanti veramente alla grande. Quindi, ciao a tutti, mi raccomando, come sempre, continuate a seguire il mio canale. Iscrivetevi, se vi va, non siete obbligati, sul mio canale. Lasciate un like, sempre se vi va, io vi abbraccio forte a tutti, ciao a tutti e alla prossima, va bene? Fate i bradi, ricordatelo sempre, ciao!